Senatore, Confindustria e Rete Imprese in Italia che cosa chiedono al Governo e al Parlamento? Chiedono subito, subito, senza più deroghe, un intervento che liberi le risorse, in particolar modo i debiti che la pubblica amministrazione ha, verso chi ha lavorato per il pubblico. Questo sarebbe un passaggio importante, si parla di alcuni miliardi, molti miliardi e che sarebbero un toccasana per una situazione che è già drammatica di per sé stessa e che non può vedere le pubbliche amministrazioni non pagare chi gli ha dato dei servizi. Su questo noi abbiamo puntualizzato che sicuramente siamo completamente della loro parte, vanno ringraziati in un certo modo ancora particolarmente Rete Imprese Italia perché danno ancora credito a una politica, stiamo parlando di confcommercio, confartigianato, confesarcenti e quindi quella rete di impresa e di commercio che è estesa sul territorio che è la nostra spina dorsale, specialmente per noi a nord, insomma sono i nostri artigiani, sono i nostri commercianti, abbiamo dato il massimo appoggio. È chiaro che le pubbliche amministrazioni devono anche mettersi in condizioni di essere leali con chi ha fatto i lavori per loro. Non si può pensare che non ci sia ancora la totalità, anzi purtroppo il contrario, di certificazione del credito e questo qui è un passaggio che deve essere anche coercitivo, forse immaginandosi anche dei modi stringenti verso gli amministratori che non adempiono a questa cosa. E poi indubbiamente c'è l'aspetto della compensazione in termini fiscali. Resta sottinteso che l'elemento di compensazione fra il dare e avere a livello fiscale è in subordine rispetto alla liquidazione dei soldi che le aziende aspettano.